ragazzi buonasera buonasera guardate stiamo riscaldando una porzione di lasagna che è rimasta oggi ci mangiamo metà io e metà il conte meravigliosa poi conte ha preparato un'altra cosa lui con le sue manine sembrano i voltini comprati ma non lo sono come le comprate come le hai fatte amore hai comprato la lonza sono bracciolettine di maiale buonissime come sono fatte spiegale potete bagnare nell'olio con un po di sale e pepe poi condite la mollica solo col formaggio e sale e massa ingrattato quindi dentro non c'è niente non c'è ripieni c'è solo tra uno nell'olio tra uno e l'altro lasciate dieci minuti poi li panate in quella mollica quando sono tutti i panati li arrotolate con le foglie d'alloro al forno le foglie d'alloro ragazzi e un po di valle a un po di valle a ragazzi sono buonissimi provateli perché sono non c'è niente dentro nel prosciutto patate non sono tante perché io non mangio pane un po di patate sempre al forno qualche pomodorino crudo che ora lui si condisce col sale a mo mi sa che stasera ci siamo messi stasera ringraziamo Dio ringraziamo sempre il signore il signore per questo pasto questa cena ma perché sei così perché sei così ma io lo sono sempre c'è bisogno di esternare ma ti chiedi che tu prima di conoscere me stavi per diventare prete sono prete spogliato ma ti spogliassi quando vedi sta mia mozza stai spogliato stai spogliato dalla tunica va bene ragazzi buona cena e poi io adoro il pomodoro verde verde anzi che sei così ma è viddi proprio di loro la panza guardate ragazzi guardate mamma che spettacolo mamma vedi com'è buonissimo va bene ragazzi buona cena che vado a prendere la lasagnetta va buona cena mo saluta buona cena buona cena buona ma cena ma cena ma cena